se vuoi io ce l'ho un fido al contrario giralo sono lavori che non sono ancora conclusi ma come potete vedere la maggior parte dei lavori sono stati eseguiti e portati a termine si tratta di lavori di valorizzazione, recupero e restauro dei tre territorioni che ci sono e di valorizzarlo con questa piattaforma, con questo bel vedere che ci dà la possibilità di avere la vista su tutta Chiusapesa e su tutta la piana cuneese come si potrà vedere, c'è un po' di foschia ma se no al mattino quando il cielo è bello limpido è sereno e terzo è veramente magnifico questo è un modo bellissimo, io non ero mai venuto qua, mi avete spiegato un po' la storia quindi mi sono rispondi alla nostra città di cervello, è un po' di riferimento per tutti i vostri concittadini quindi il fatto che diventa più limpido è sicuramente bellissimo Volevo solo fare una foto a... Allora... Sì sì... Volevo solo fare una foto a... Allora... Sì sì...